Posso utilizzare un altro strumento molto efficace sul trattamento, molto efficace nel trattamento delle aderenze infratessutali e anche molto efficace sull'aumento della temperatura locale e quindi sulla decongestione, sull'indernaggio, sulla rimozione delle condizioni adesive, sul miglioramento dello scormento infratessutale, eccetera, 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 che è la ventosa. La ventosa è un surrogato della coppetta in plexiglass, la quale a sua volta è un surrogato della coppetta in vetro, che ha una specifica caratteristica, anzi più di una. La prima è la deformabilità, quindi io la posso deformare in base alla zona che mi interessa trattare. La seconda, che è molto importante, è l'aggressività. Questa coppetta è una coppetta molto meno aggressiva rispetto a quelle in plexiglass, le quali quando vengono fatte scorrere possono lasciare delle piccole lesioni a livello capillare. La terza è la pressione che posso regolare, che è sicuramente inferiore rispetto alle coppette tradizionali. Quindi parliamo di pressione negativa, che genera un ingabbiamento del tessuto all'interno della coppetta, la quale per un meccanismo di suzione porta il tessuto all'interno nel quale viene fatto convogliare il sangue e libera, oltre che rigenerare uno scambio di sangue, quindi di sangue ossigenato, di molecole, di nutrienti, crea uno spazio nel quale poi il tessuto tratta da beneficio sia a livello di scorrimento che anche a livello proprio di ossigenazione stessa. Quindi posiziono la coppetta sul tessuto della paziente, lascio che il tessuto venga prelevato, quindi si crea il vuoto negativo e ci sia la suzione all'interno della coppetta e con un movimento molto dolce la faccio scorrere sul suo tessuto. La coppetta in silicone, o ventosa di dirsi voglia, avendo appunto questo principio, godendo appunto di questo principio di maleabilità, è uno strumento che se fatto a dovere non lascia esiti traumatici nel tessuto della paziente e si adegua a tutte le varie salienze osse, ad esempio la spina della scapola. Io questo lavoro con una coppetta tradizionale, non potrei mai farlo qua sopra, perché nel momento in cui la coppetta tradizionale che non è deformabile incontra la spina della scapola per un meccanismo di leva inevitabilmente va a distaccarsi dal tessuto.